Infradito, quest'anno si rimorca solo in infradito Carlo Conti mi ha evitiato il colorito Questo meridione sembra un puerto ricco Infradito, quest'anno fa tendenza, dico no che figo Con tutto sto piccione sembra il paradiso E qui si divisa tutto proprio all'improvviso Allora, diciamo che quando io ho fatto il mio primo video e che ho visto tutte queste visualizzazioni era una pubblicità di razzo che feci appunto perché io avevo questa web tv e c'è arrivata questa pubblicità e nessuno la voleva fare perché davano un po' pochi soldi e diciamo quando vedi queste visualizzazioni poi tantissima gente, anche parenti che poi mi dicevano bravo Andrea ma veramente devo fare il coglione nella vita e allora da lì ho detto sì è diventato il mio talento diciamo Io volevo farvi due domande velocissime perché magari qualcuno ha anche delle domande da farvi o magari nessuno magari anche se avete dei soldi da darci va bene non sarebbe male ma pure il bonifico va bene lo stesso allora sentite ragazzi fattura anche per me se volete io non ti sdegno ma guarda io a te ti darei tutto anche sinceramente sì è vero che ci mette tanto per arrivare al top io spero di arrivarci dopodiché cercherò di aggiornarmi secondo me sicuramente la vena artistica no non si deve mai fermare da quanto tempo anzi non da qua che giorno è il vostro anniversario siete pronte? si va tanto non te ne frega niente che loro stanno qua a luglio devi fare sì però se no loro suggeriscono si rispondi 27 novembre 2016 aspetta vengo io qua aspetta 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 ce lo deve dire prima ce lo deve dire prima ne all'orecchia no? vediamo da lei se è giusto? si è giusto è giusto? è un applauso madonna beh quest'anno l'accoglienza è stata diversa del solito perché comunque facendo appunto questi video sul web te l'hanno presa male? no l'hanno presa molto bene e per me a parte che comunque in Puglia al sud l'accoglienza è diversa da tutte le altre parti d'Italia non voglio fare discriminazioni però è così comunque sembravo di essere il padre eterno quando ero giù in Puglia però non lo sono eh Andrea scusate che devo fare? sono sincero infradito quest'anno si rimuove solo in infradito Carlo Conti mi ha vitiato il colorito questo meridione sembra Puerto Rico infradito quest'anno fa tendenza dico no che figo con tutto sto piccione è sempre il paradiso e qui si dirizza tutto proprio all'improvviso brava